Benvenuto in questo nuovo video su Vuota la Spirizzera con le mie amiche! A me è piaciuto, mi è piaciuto con la mano tipo quella di... come si chiama? La mano di... la famiglia Adams? Nooo, il cantante! Chi è? Vabbè, no Adriano Celentano, l'altro! Quello che dico dice che ci sono le mani grande! Gianni Morandi, esatto, mi è venuta la manona, perché l'ho avvicinata qua! Posso salutare? Un saluto a tutti! Quando si vedono le orecchiane, va bene! Dobbiamo fare la descrizione di come sei fatta tu, ma dobbiamo fare la descrizione della spesa! Vabbè, non è vero, un inizio un pochino così, benvenuto comunque! Iniziamo da Sisa, per un prezzo totale di, come sempre, un botto! Non capisco come! No, non è vero che no! No, ma non capisco come, quello è il discorso! 76 euro e 46 centesimi! Però c'è da dire, iniziamo dalle parti quelli più potenti, quelli più forti! E poi ci saranno anche gli acquisti di acqua e sapone! Mi stava venendo la canzoncina! Vabbè! Editecela! Ah, grazie! Grazie, gentilissima! Beh, se già ho solo questo, mia madre l'ha pagato 14 euro! E 79! Per la precisione! Quasi 15! Mi servirà per il tiramisù! Esatto! Se ti interessa la ricetta, la trovi sul canale! E io lì ti do tantissimi consigli per realizzarlo al meglio! Cioè, testimone mia madre, perché sennò parlo solo io e sembra... No! Ci sono anch'io! È ottimo il tuo tiramisù! Stiamo aspettando proprio che tu lo possa cominciare a fare questo ottimo tiramisù! No, perché sennò... Per mangiarcelo tutti! Sennò sembra che veramente glielo dico io a mia madre! No, sono io qui! Insieme! Poi... Amaro si gesta! Sì! Amaro è siciliano! Esatto! L'ho comprato! Oggi sono più scema del solito! L'ho comprato a posto! Non so se questo è capito! Eh, la vedo! Amaro! Mamma! E costa 8 euro e 90! Però questo credo che non sia un articolo che si possa trovare ovunque! Perché penso sia del... Vabbè poi lo importano mamma! Lo fare! Poi lo so! Ma questo non te lo posso dire! E a proposito dei tiramisù tornando al discorso ci sono i mascarponi milk! Esatto! Mia madre ne ha presi 3! Da 250 grammi ognuno! E questi... No, per fare il complessivo di quel prezzo che ho pagato già costa 1 euro e 79! Vabbè però... Anzi per un mascarpone poco è! Poi favesini... 2 euro e 29! Usa questi per il tiramisù! Esatto! Non i savoiardi! Bando ai savoiardi! Mi stava pure cadendo! Di quanto mi no! So che magari nasce il tiramisù con i savoiardi! E tu dirai... Anzi ti scriverai... Irene! Il tiramisù è quello! Quello originale! Ma ti posso assicurare che il savoiardo ne rimane secco perché essendo bello grosso! Vabbè! Cosa serve poi per fare il tiramisù? Le uova! E' 1 euro e 69! Sottilette! Ok! Dico tu lo sai perché le prendo le sottilette? Eh! Per chi? Per i gatti! Esatto! Pensa! Ok! 99 centesimi! Ciccione però no! Non do tutti i giorni! Ciccione quello è esente da queste cose! Non do tutti i giorni! Quello solamente croccantini due volte al giorno! Non di più! Anche se lui mangerebbe... 4, 5, 6, 8 giorni! Ma che di più! Lei non so se pareva! 4, 59 centesimi! La maionese pure ti pareva? Certo! Io amo la maionese! Dico a proposito di video svuota la spesa! Dato che ti piacciono! Si ecco! Puoi trovare la playlist sul canale! Quindi ti basta aprirla e vedrai! Beh! Mia madre! No! Noi andiamo a vedermi! In... Come si so dire? In riproduzione! Non di riprodere! No in riprodu... No! In... Va bene! Non ce la posso... Mi hai capito comunque! Schiacci i play e ti scorrono tutte le... Le visualizzazioni! Ti scorrono tutti i video della svuota la spesa! Del video svuota la spesa! Non ce la faccio oggi mamma! È grave! Un euro comunque la maionese è 39 centesimi! Pasqua oggi non ce la faccio! Ma che cos'hai? Un momento di blocco mentale! Angelica! Angelica! La tisana! Questa qua! Vedi? Leggi! Che cos'è? Della sera rilassante! Camomilla! Melissa e... Lavanda! Esatto! 2 euro e 79! Poi frutta secca! Come se non ci fossero domani! Dato che in famiglia la si ama! Quindi... Mia madre ha preso... Il misto salato 99 centesimi! I pistacchi tostati! Idem con patate! Tutti uguali! E poi... 2 e 2 praticamente! Esatto! Mix Müller! Fate l'amore con il sapore! Ah! Sempre un buon prezzo! Ne ho presi ne ho quale 3! Questo io l'ho assaggiato! 99 centesimi! Devo dire la verità! Non mi piace! L'hai trovato dolce! È dolce! Yoga! 1,49! Bella questa carta e genica! Fox! Si! Si pulisce! Si! Si è solo quello lo scopo per questo! No! Però! Già le roselline! Si! Anche mentre si fa un certo tipo di atteggiamento si guardano anche le rose! 2,95! Questo video è di un trash che non finisce mai! Aiuto aiuto mamma! Attento! Aiuto aiuto! Birra! Eccola qui! 1,89! Vedremo! Vedrai questo polpo finale! Penso proprio se no! Io di solito taglio poco e niente! Ne mi do solo dalla spesa! Bastoncini! Cotton fioc! Sì! Eccolo qui! Ma oggi che hai che li trovi tutti velocemente! Sono brava eh! È diventato un fenomeno! Ma! Lei lo! Non lo so! Sono diventata un velocipite! Io di solito taglio i momenti di pausa che mia madre fa per cercare i prezzi! Ma questa volta no! Non lo dire tanto forte! Già vedo che non lo vedo! Che marvenullata di albicocche! 2,19! Non ho detto! Oggi è già bravata! Perché ti hanno un nome! Poi il nome ti devo dire esattamente la spazzatura! Purtroppo sì! Perché loro ce lo scrivono! Domopack! I famosi domopack! 1,99 euro! Non poco! Prego! Ma stai attento! Io già vedevo in bilico il cavalletto! Perché questa volta sto registrando con il cavalletto! Prima registravo con le scatole delle scarpe! Le facevo prendere! Ma mia madre faceva una bella! Perché mi scocciava a portare il cavalletto da casa! Perché io di solito a casa registro con il cavalletto! Tu dirai a me che cosa mi interessa! Vabbè! Si è capito! Questo video svuota la spesa è... Particolare! Abbastanza! Tipo pazia! Montana! La camomilla! Sì! 1,49 euro! Però noi speriamo sempre di regalarti un sorriso, di farti compagnia! Sì! Poi! Sisa le olive! 2,29 euro! Stiamo finendo eh! Con Sisa! Poi polpa bella! 1,89 euro! Ed infine due pacchi di fogliatti! 99 centesimi! Le penne! Adesso passiamo ad acqua e sapone che lì è il clou del discorso perché altrimenti per queste cose non avrei neanche fatto il video svuota la spesa ma siccome so che vi piacciono tantissimo eccomi qui! Eccoci qui! Grazie! Che mi hai nominato! No! Perché dovete votare! Basta! Ora mi metto all'unità! Dovete... No, no! Dovete votare mettendo like! Se arriviamo almeno a 50 like almeno! Mia madre si farà vedere in video! Non direi il caso! Non direi il caso! 50 like! Minimo 50 like! Mi raccomando eh! Ascoltate e condividete! Per far sì che questa cosa avvenga! Anche perché mamma l'altra volta quando ho fatto vedere un altro video svuota la spesa al supermercato ti ho impadrato! Lo so! E quindi! Mi hanno visto? Eh certo! E' l'anteprima! Che cosa devono dire? Eri dall'anteprima! Orrore! No, orrore no! No! Anzi mi hanno detto che sia una bella signora! Ah! Vedremo! Va bene! Se mi hanno fatto già i complimenti mi gratifico! Con i punti che abbiamo accumulato attraverso la scheda di acqua e sapone mia madre ha ritirato un premio! C'è la bilancia! Ovviamente l'abbiamo scelta noi eh! Trovamente! Ed è digitale! Questo è comodo! Intanto anche per fare i dolci! Perché vedi che è ampia per pesare! Ed è digitale! Quindi si accende di qua! Si si! E si pesa! E si pesa! E' comodissimo! E' comodissimo! Cioè veramente! Con i punti! Con i punti! La pasta che hai visto anche tu oggi è stata pesata perfettamente! Si si si! No bello mi piace! Si! E si spegne in automatico! Sempre lì! Ah sempre lì! Va a batterie! Quattro batterie mi pare! Sottili! E quindi no! Carino! Molto! E pratica! Mi trovo bene! Mi trovo bene! E adesso! Ed adesso aspettiamo! L'altro premio che sarebbero gli asciugamani! Detto questo! 39,46€! Ah dico! Se ti interessa! Vienimi a trovare anche su Erex in the Wonderland! Che è il mio secondo canale YouTube! Dove ho pubblicato la skincare! Che tra parentesi! Ho finito questo video! Sto andando a registrare! Va bene! Carmine! Breff! Pesca! Pesca! Pesca nettarino! Interessante! E bella cotogna! Non l'avevo mai visto! Questo profumazion! Nuovo! E tutte le fattime! Tutti le fattime! 99,99€! Ah, tutti le fattime! E come profumazione c'è questo! E poi questa quale a limone! è questa qui acqua blu acqua blu anticalcare comunque interessanti mi devi dire com'è particolare poi mia madre a proposito quella famosa quella famosa tinta che mi chiedevano ma non ricordo com'è andata mi ha coperto quella non è natura mi ha coperto perfettamente capese mi sta durando ancora addirittura e ora però mia madre ha cambiato sotto mio consiglio io gli ho consigliato questa della lore al pari e ha preso la numerazione 500 ed è un castano chiaro niente ma per me amante del cocco ma io non me lo vado a remettere ovviamente e per fabiana ciao fabbi 5 euro e 90 io oggi sono scena ti devo dire il prezzo 5 euro e 90 no mi sono fabiana lizzie ve lo consiglio vabbè dermolab crema solare protezione 30 questo visto l'inci perché devi sapere che io ho anche pubblicato un video sui solari quindi se ti interessa da vali a dare un'occhiata sui ex in the wonderland e dove consiglio i solari con un buon inci questo l'ho controllato e non è male ovvi più ier acido ialuronico idratazione multilivello proteggi idrato effettivamente è stato 7 e 70 un buon brazzo visto che ci sei sempre della stessa linea mia madre ha preso la protezione 50 lei mia madre è più scura rispetto a me è castana quindi però sul viso sempre protezione 50 io ti consiglio a prescindere se hai un fototipo 1 2 3 scorrendo di utilizzare sempre protezione 50 anche sul corpo tanto da bronzi ugualmente però mia madre ha voluto prendere la 30 però per il viso la 50 su quello non si transige anche perché poi vengono rubie e macchie soprattutto e via 8 euro c'è un buon brazzo poi fria formula dei dati casi 89 centesimi per la corsetta e piccolino poi lo shampoo anti per polisteria all'ortica c'è qualcuno che mi pensa che mi spalla perché quando quello del naso non lo so è quello dovrebbe essere quello purtroppo sì ma non lo so speriamo che parlino bene la spagna ecco euro e 10 c'era era in offerta un profumo qui non lo so di qualcosa ma si le cose quelle dove si è quello se fa il peros intima ti abbiamo fatto vedere miliardi di volte sì perché mi trovo molto bene e 89 centesimi il dove sempre mi sembra quando tu fai queste cose qui comunque in questo momento nono anche in altri momenti ma ci sono i momenti della giornata 2 euro e venti si era perso il prezzo nei meandri dello scontrino poi general questa è freschezza più elimina gli odori è non morbidante un euro sì no no questo è per lavare la mano la lavatrice 1 euro e 80 ed infine il mascara questo qui è senza niente senza assolutamente niente anzi ora lo apriamo anche ed è senza appunto parabeni e all'olio d'oliva ed è della debora volumizzante e rinforzante formula pura volume e forza ed è questo qui proviamolo vediamo come si presenta lo scopolino bello perché mia madre devi sapere che con il mascara coninci schifoso li bruciano gli occhi la vittura mi si opacizza l'occhio non vedo figurati che cosa fanno come gli ingredienti cosa fanno gli ingredienti nocivi nei prodotti figurati tutti immagini ad esempio mettersi in macchina e non vedere è successo esatto non vedere questa comunque è l'unica linea di prodotti make up da questa pone che ha un buon inch il resto 11 euro per questo dai detto è caro è caro anche lo scopo è caro però dimmi come ti troverai perché è la prima volta che mia madre lo compra vabbè di solito costano 8 euro 9 euro quindi non è che cambia tantissimo meglio prendere un mascara che vale non posso prendere qualcosa che faccia male agli occhi non mi è concepibile bene il video termina qui speriamo di averti tenuto compagnia lo ridico certo scrivimi cosa ne pensi nel tuo commentino se il video ti è piaciuto e ti ha fatto compagnia pollice all'insù condivisione e mi raccomando iscriviti se ancora non l'hai fatto esatto brava e tanti saluti a tutti ciao mandi 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 a douche punch ciao ciao